Buon bene, diciamolo che va a farlo, bravo Io tu mi piace più perché sono tempo e poi con la faccia una scena che ti ritrovi si arriva da un po' verso Mamma, voi? Non pensate, dove ci sta, mamma? Allora, un'altra volta che ti ha ragionito, possiamo mai andare a raggiare così? Hai detto che non lo faccio più e l'ha fatto altro lavoro Da lì, a lavorare non ci va, eh? Ma che non ci compiere? Ti andate a trovare una coppola? Un letto lo trova, da mangiare pure lo trova Oppure, raramente, ma lo trova Mi ringrazio questa santa notte, perché se non fosse per lei, da manno pari, dice Prendiamolo con noi, è un orfanello bellino E' bellino questo qua E' un orfanello bellino E' bruttato E' un po' pigliate gol Mamma Questo qua si viene portati a fare qualche semplice, da rivista andato a tutto quanto Ha detto mamma, è utile che torna a casa, che non c'è stata niente a mangiare io sono molto vergogno e poi mi ha fatto pure tu con un altro cucchino cucinale e tu ti devi dire che questa scuola già è l'affare andare in fungo e non l'ha fatta posta no, ma lì devi fare appunto delinquente ma sicuramente non c'è sanità a mangiare a sta cazzo proprio niente, ma tanto io per me non tengo fatto e nemmeno io e si capisce perché noi pian piano siamo liati da tutta abitudine devo mangiare più, uno di questi giochi ci troveranno stai tipi e vabbè, più tardi se l'avvocato Manzillo ci manzoni ci faremo due marcheroni vestire sì, aspettiamo a lavorare Manzillo per fortuna ho provveduto io e te, vada qua, vissi qua un uovo? hai comprato un uovo? e questo io l'avvino a mano che non posso un uovo? l'ho comprato, l'ha rubato